La Puglia del gusto alla Bitta di Milano. Prelibate attrazioni per 12 mesi di alta stagione, questa è la proposta per il turismo enogastronomico che l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia ha presentato in occasione della 35esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano che si svolge dal 12 al 14 febbraio. Le eccellenze enogastronomiche di Puglia, protagoniste della prestigiosa vetrina internazionale che quest'anno è tutta quasi interamente dedicata alle tematiche di Expo 2015, la cui rilevanza è stata ribadita durante la cerimonia di inaugurazione dal presidente di Fiera a Milano, Michele Perini. Siamo alla prova generale prima della prima e quindi parlando in termini lirici possiamo dire che tutti gli attori sono sul campo, sono vestiti, sono già pronti e possono essere in grado di cantare. Più di 100 paesi sono presenti a questa manifestazione il che vuol dire che Fiera a Milano è riuscita a convincere molti paesi a essere presenti e devo dire che il link con Expo è sicuramente un elemento importante. Expo rappresenterà per Milano e per l'Italia un momento veramente indimenticabile, però dobbiamo essere in grado di accogliere bene, di dare dei servizi fatti bene, degli alberghi che funzionano, un marketing territoriale che funziona, i trasporti che funzionano, gli aeroporti con gli aeri in orario, insomma tante cose che bisogna fare, ognuno deve fare la sua parte. Quindi in questo caso mettiamoci insieme e cerchiamo di lavorare nel modo migliore. 100 nazioni partecipanti e naturalmente anche tutte le regioni italiane. Nel padiglione 9, la Puglia, che quest'anno vanta anche l'inserimento nella classifica delle migliori mete turistiche stilata da National Geographic, un viaggio da non perdere quindi, che può avere preludio proprio qui alla BIT. Tra le attrattive principali l'area cooking, dove le masserie didattiche di Puglia, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, hanno proposto a stampa e visitatori laboratori didattici e lezioni di cucina che hanno puntato i riflettori sui territori della Puglia. Abbiamo voluto riproporre uno scorcio della Puglia, ossia una masseria che ripropone i nostri sapori tipici. La masseria didattica Gialli ha presentato quest'oggi una pietanza tipica salentina, cicerietria, utilizzando ovviamente i prodotti nostri di eccellenza. Il Movimento Turismo del Vino, che collabora in questo progetto, consiglia i nostri vini d'eccellenza particolari, che bene si abbinano a questa pietanza. E' proprio questo l'obiettivo, quello di proporre degli angoli di degustazione dei laboratori di cucina, proprio per far conoscere i nostri sapori e quindi invogliare, promuovere la Puglia, cercare di far venire tutti quanti in Puglia. Le eccellenze enogastronomiche si confermano a un indiscusso a Pilla della Puglia, che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento sotto il profilo turistico ed è proprio il turismo enogastronomico l'aspetto centrale dei numerosi appuntamenti che si susseguono nella sala conferenze di Spazio Puglia, aperta a tutti i visitatori che possono così assaggiare il meglio del cibo pugliese e anche scoprire il meglio dell'Italia meridionale, con i suoi ritmi di vita, le sue tradizioni e le bellezze dei luoghi.